Agenda urbana ha appaltati i lavori per la realizzazione della ciclovia ad una ditta di Mossomeli. L'opera da poco meno di 4 milioni di euro collegherà a Caltanissetta con Enna dovrà essere realizzata entro luglio 2023. Finanziamento che arriva dall'assessorato regionale all'infrastruttura e alla mobilità è stata l'impresa PM Costruzioni SRL di Mossomeli che sulle 127 imprese totali che hanno partecipato all'aggiudicazione dei lavori, che dureranno un anno e due mesi, ha traguardato l'obiettivo. I lavori dovranno essere consegnati entro luglio 2023. Si tratta di 85 chilometri complessivi tra Enna e Caltanissetta. Un'importante opera di mobilità sostenibile per un intervento che riguarderà il territorio nelle parti del percorso da Ponte Capodarso al villaggio Santa Barbara, via Zipoli, ma anche Borgo Petiglia, Caltanissetta Xirpi, Portella del Vento. Un'ulteriore parte riguarderà il tratto da Corso Umberto a via Rochester a via Le Stefano Condura fino al Tomaselli per proseguire poi per la strada statale 99 e andare in direzione di San Cataldo.